Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! A Risolto Giallo! Buonasera e bentornati a Risolto Giallo dalla vostra Alessia Sorgato. Saluto subito il nostro ospite odierno perché, come notate, il nostro Mazzavillani è ancora latitante ma benvenuto Carlo Piano. Buonasera e grazie. Tutto per me oggi l'autore. Vi faccio intanto vedere la copertina del suo ultimo libro. Chissà se qualcuno di voi riconosce questi occhi a fessura, questo volto semicoperto ma ancora riconoscibile. Vabbè, diciamo chi è? Chi è? Questo signore. Donato Bilancia che si faceva chiamare Walter. E cominciamo già con i misteri. Ma prima di addentrarci nella storia, dicci qualche cosa di te. A noi piace dare prima il biglietto da visita. Chi è Carlo Piano? Se ne potrebbero dire tante di cose. C'è chi ne parlerebbe male, chi ne parlerebbe bene. Quello che dico io ho fatto per tanti anni, il giornalista per vent'anni, all'indipendente, poi al giornale, poi a Panorama, poi al secolo XIX, sempre occupandomi di cronaca. Ero capocronista qui al giornale a Milano, lo sono stato per un po' di anni, poi mi sono stufato. Mi sono messo a collaborare con i giornali, collaboro con la stampa, Repubblica, il secolo XIX. Per avere più libertà? Per avere un po' più libertà, perché mi era nata una figlia e ero stufo di fare mezzanotte ogni sera. Perché poi i giornali, inizia a frequentare soltanto i giornalisti, diventa una specie di ghetto in cui tu ti rinchiudi. Allora insomma, me ne sono andato, mi sono messo a scrivere libri e a collaborare. Ecco, questa è la cosa. E te ne sei mai pentito? Beh, ogni tanto mi manca. Diciamo che l'adrenalina di quando succede qualcosa manca. Questi giornalisti che hanno l'inchiostro al posto del sangue, nelle vene, il ticchettio della macchina da scrivere. Manca. Però, meno male che Carlo ha deciso di fare questa cosa, perché così ha trovato il tempo di leggersi le migliaia e migliaia e migliaia di pagine che costituiscono il cosiddetto fascicolo processuale della vicenda di Donato Bilancia. Lui lo dice molto chiaramente, ne va fiero e io gli do il giusto tributo, perché essendo una lettrice di carte processuali, voi lo sapete, io faccio l'avvocato, a volte, veramente, ti verrebbe voglia di dire sintetizziamo un attimo. E invece noi siamo ancora sommersi dalla carta, figuriamoci un caso come questo. Domanda numero uno. Perché Carlo Piano si decide, si determina a scrivere di Donato Bilancia? Al di là della conterraneità. Allora, risposta numero uno. Al tempo dei fatti di bilancia. Che ricordiamo i nostri ascoltatori. Sì, che avvengono in un semestre, in pratica, perché avvengono tra l'ottobre, gli omicidi, la scia di sangue, diciamo che si dipana tra l'ottobre del 97 e l'aprile del 98. Il 6 maggio del 98 lo arrestano, quindi esattamente 25 anni fa. Comunque io ero capo della redazione del giornale di Genova e avevo seguito la vicenda. Avevo seguito la vicenda senza capire, peraltro, che dietro tutti questi omicidi ci fosse una sola mano mossa da rancore, una sola mente scarrucolata. Come d'altronde non avevano capito neanche gli investigatori. Comunque, per farla breve, quando lo arrestarono, io lo incontrai nel carcere Caserosso di Chiavari. Era passato 15 giorni dopo l'arresto. Mi ero... Ora è una cosa che non si dovrebbe dire, però penso che ormai sia avvocato. Io chiedo a lei... Censureremo. Sono magari caduta in prescrizione. Mi ero aggregato a un parlamentare che hanno libero accesso alle carceri per controllare e mi ero trovato seduto davanti a Donato Bilancia. E Donato Bilancia... Io ero seduto, come qui, e lui era in piedi davanti a me che fumava. Lui era un tabagista, un forte tabagista. E non mi guardava negli occhi, guardava un crocifisso che io avevo appeso dietro sul muro con questo sguardo trasparente, vacuo. Perché aveva degli occhi chiarissimi, è vero? Un celeste... Com'è che lo definisci tu, ghiaccio? Degli occhi che sembrava che ci fosse l'abisso dietro. Ecco, se mi posso lanciare in questa... E lui mi disse una frase. Mi disse... Ma io cosa ci faccio qui con tutti questi delinquenti? Allora, io naturalmente per istinto di sopravvivenza non dissi niente. E Donato Bilancia, però tra me pensai... Ma tu cosa pensi di essere? E poi si mise a raccontarmi delle cose come se non fosse lui l'attore, ma fosse un semplice spettatore. Come se leggesse delle pagine scritte da altri. Sempre per ricordare a chi, magari in quegli anni, non aveva accesso agli organi di informazione, perché magari non era neanche nato. Eureo, confesso, subito, Bilancia? Sì, lui nel momento che lo prendono, alla fine è più che riconfesso, perché Bilancia lo incastrano, e questo è un particolare... Per l'indagine interessante lo incastrano per la prima volta col DNA. I RIS di Parma, che allora erano guidati, da Luciano Garofano, che adesso è sempre in televisione, eccetera, lo incastrano per la prima volta in Italia, che un DNA in America si usava già, ma lo incastrano per un omicidio, che era l'omicidio di una prostituta nigeriana, Tessia Dodo. Poi stavano collegando gli altri. Quando lo interrogano, lo interrogano in questa caserma, il PM Enrico Zucca, lo interrogano in questa caserma dei Carabinieri a Molassana, un po' in periferia, anche perché c'erano tutti i riflettori puntati sopra, c'era il circo dell'informazione che aveva invaso Genova. E lui, il PM gli dice, ma allora parliamo di questa Tessia Dodo? Lui dice, sì, ma dobbiamo parlare anche di altri 16. E gli ha detto, seguiamo, e questa è una cosa strana, Bilancio aveva finito le medie, non aveva studiato, gli ha detto, seguiamo la Consecuzio Temporum. E inizia a snocciolare come una filastroca macabra, tutti gli omicidi, compreso il primo, che era stato archiviato come morte naturale, no? Perché nel primo non spara, lo soffoca, e quindi è più che il reo confesso. Ecco, per tornare a quello che stavo dicendo, perché l'ho scritto? Poi io sono tornato a Milano, perché ho andato a Genova a sostituire un capo, sono tornato a Milano, mi sono dimenticato di lui, come spesso accade, il tempo ingoia le cose belle, ma anche le cose brutte, no? E quando lui è morto, poco prima di Natale del 2020, nel carcere di Padova, a Due Palazzi, lui muore di Covid, muore di Covid, rifiuta le cure, magari sarebbe morto lo stesso, comunque rifiuta le cure. Che strano, come vai? Voleva spiare? Secondo me, secondo me, perché nell'uccidere c'è sempre, in qualche maniera, un istinto di volersi uccidere, perché lui dice, che lui sperava che questa storia finisse con una sparatoria da far west, con carabinieri e pulizia, e di morire così. E dice anche di aver pensato diverse volte al suicidio, ma di non aver mai avuto il coraggio di farlo, anche perché lui non sopportava neanche una puntura, neanche la vista del sangue. È una delle tante contraddizioni di quest'uomo, fragile e feroce nello stesso tempo. Uccideva sparando in testa e non sopportava la vista del sangue. Comunque la legge del contrapasso su di lui è stata veramente un cecchino di precisione, perché lui muore soffocato esattamente come la sua prima vittima. Quindi il cerchio si chiude. Non ci avevo pensato, ma... Neanche io, ma adesso così, nel brainstorming è venuta fuori. Questa me la rigioco. No, perché Carlo lo sa, voi dovete sapere che tra le tante coincidenze che la vita ci mette tra i piedi, c'è la circostanza che io, a breve, tra una settimana, ho l'esame di master. Io sto concludendo un master in vittimologia e criminologia, e uno dei miei insegnanti è proprio uno dei criminologi che ha peritato Donato Vilagia. e ce lo ha nominato in tutti i modi. Quando io mi sono imbattuta per risolto giallo in questo volume, ovviamente mi sono sentita a casa. Anche se da qui ho imparato molto, perché calcolate che il torto è sicuramente un resoconto giudiziario di una vicenda atroce. Quest'uomo è tuttora colui che detiene il record di uccisioni all'interno della trista categoria del serial killer italiano. Ma lo leggete come un romanzo. Tu hai una penna veramente... Posso dire che non è una penna da giornalista, perché quando voi scrivete i vostri articoli di cronaca, noi siamo abituati a leggere frasi brevi, linguaggi asciutti, poco utilizzo per fortuna dell'attributo, dell'aggettivo, zero avverbi. Qui invece è come leggere una serie di immagini diapositiva. Complimenti, sono veramente belli. E poi è molto bello il fatto che tu personalizzi spesso la narrazione. C'è quel brano che tu scrivi a capodanno mentre fuori senti i fuochi d'artificio e lui sta leggendo carte del processo di Donato Bilagio. Mi sa che ti aveva proprio colonizzato la vita questa cosa. È un po' ossessionato. Ti dicevo, quando ho saputo che è morto, ho sentito come un rigurgito, come un'onda di marea acida a salirmi dentro che mi ha costretto a riprendere in mano questo caso, a leggere le carte, a scavare nei miei ricordi, per esorcizzarlo, forse per liberarmi di lui, anche se non ci sono riuscito, perché siamo qui e te che ne stiamo parlando. E a scavare nei ricordi anche, devo dire, a calpestare i luoghi dove erano avvenuti i fatti. Perché i luoghi dove sono avvenuti certi fatti hanno, secondo me, non è vero che i luoghi non parlano, hanno una persistenza sinistra. Spiegaci questo aspetto. Diciamo che la zona delle operazioni che tu ricordi caso per caso nelle tue pagine è una zona ristretta, tutta... È tutta la Liguria, tutta la Liguria, da Genova al Podente, perché lui viaggiava molto verso Sanremo perché era un giocatore d'azzardo ossessivo, e il Basso Piemonte, ecco, è questa la la sua zona in cui la zona in cui opera. Perché ci dicevi che i luoghi parlano in questo caso? Perché allora io non so se poi è suggestione o no, ma per esempio andando dove lui compie il secondo omicidio, lui compie il secondo omicidio e uccide una coppia di sposini in una palazzina in Piazza Cavour a Genova. Piazza Cavour è la piazza che si affaccia sul porto antico, sull'acquario, ecco, diciamo, molto centrale. E questa palazzina medievale, andando lì, ecco, percepisci che qualcosa è successo. Peraltro questa palazzina sorge accanto ai ruderi di quella che era la Casa del Boia durante la Repubblica Genovedere. Infatti questo è un omicidio che l'hanno chiamato l'omicidio della Casa del Boia naturalmente, i giornali, ecco. E quindi, ecco, devo dire che questi luoghi c'è un genius loci ecco che... Che ti parlava quando passavi da lì. Sì, ora sì, non ero proprio abbattito completamente però che mi suggeriva delle cose. Ripeto, forse suggestione però credo che dove sono avvenuti certi fatti ci sia sempre una persistenza. Ecco, a proposito di luoghi, una delle caratteristiche, delle peculiarità che tutti ricordiamo, io in particolare me la ricordo come se fosse ieri perché io sono sempre stata una che si muoveva in treno, sia per diletto che per lavoro e quello fu il periodo in cui non si andava in bagno quando si prendeva un treno perché, ricorderete, c'è una serie di omicidi caratterizzati proprio da questo. Bilancia coglieva la vittima nelle latrine dei treni. Ti sei fatto un'idea su questo aspetto del suo escursus criminoso che se fossimo dei criminologi diremmo che è un crimine disorganizzato perché non c'è una matrice comune alla scelta delle vittime, alla scelta dei luoghi, alla scelta del modus operandi. Se avessimo qui un profiler dell'FBI probabilmente Bilancia non riuscirebbe a sgamarlo. Ma perché quella fase lì ferroviaria? Ecco, infatti alcuni criminologi rifiutano il termine serial killer e parlano più di omicida a catena o cose del genere perché il serial killer come mi ricordavi normalmente ha dei bersagli molto più definiti si diceva appunto quando parlavi di record di tristi record perché non bisognerebbe fare le classifiche ma Jeffrey Dahmer uno dei serial killer più famosi del mondo a parte il fatto che ha ucciso lo stesso numero di vite di Bilancia 17 omicidi ma nel giro di 13 anni non di 6 mesi come ha fatto Bilancia per esempio era uno che lui cioè il suo bersaglio erano omosessuali afroamericani ecco invece Bilancia cambia modus operandi cambia bersaglio si parte da degli omicidi che sono che nascono dal torto ora magari non sto a svelare qual è il torto però è una vendetta è una vendetta ma poi diventa ecco il titolo perché la scaturigine del primo è un torto che lui ritiene di aver subito e da lì però a un certo punto esce dall'ambito personale esce dall'ambito personale a un certo punto pareggia i conti col mondo anche con cose poco comprensibili uccide un metronotte perché una volta un metronotte li aveva sparato ci sono delle rapine di mezzo ci sono degli orefici i cambiavalute che rapinava 20 miglia allora c'era ancora la lira e arriviamo ai treni e poi arriviamo poi passiamo alle prostitute cos'è che succede? io mi sono fatto un idea anche leggendo le 13 perizie psichiatriche che hanno fatto su bilancia lui quando uccide le prostitute ora è brutto dirlo però cosa è che succede? succede che nel senso comune della gente una prostituta fa anche un mestiere pericoloso ecco che in qualche maniera la espone a dei rischi come questo per cui piano piano questi omicidi vengono relegati dai giornali e dai notiziari sempre nelle pagine più indietro nel giornale i servizi di coda e lui era un narcisista inguaribile era uno che aveva bisogno di stare sotto riflettori al centro del palcoscenico oltretutto quando lui cambia questa cosa e questa è una cosa interessante secondo me i giornali si occupano anche di altre cose perché succede proprio in quel momento una tragedia che tutti ricorderemo quella del Cermis in cui il top gun americano facendo lo stupido nei nostri cieli in Italia la funivia e succede quello quindi i giornali la grande informazione giustamente si e lui cosa fa a bilancia alza la sticella alza la sticella e inizia a uccidere donne sul treno donne sul treno sconosciute dice lui dice che gli prende questa fascia di fuoco alla testa ha bisogno di uccidere donne naturalmente c'è un odio viscerale nei confronti delle donne ora che perderemo forse troppo tempo ad analizzare ho capito quindi lui riporta il male tra di noi e mette chiunque a repentaglio e chiunque a rischio perché non è più la funivia che era quella e quella e basta e non è più la prostituta che ha una propensione victimogenica alta ma perfino l'infermiera che prende tant'è vero che tu scrivi bene che lui dirà che di quella se ne era pentito come se è pentito dalla sposina di Piazza Cavour perché forse quelle centravano niente con la sua storia si è pentito fino a un certo punto perché poi l'infermiera lui è pentito soprattutto perché lasciava una bambina e lui aveva anche per una tragica vicenda personale che aveva vissuto diciamo aveva per i bambini un grande trasporto perché lo dico brevemente ma il fratello di Bilancia si suicida con il figlio in braccio buttandosi sotto un treno quindi il nipotino in cui lui si riconosceva che lui portava le gioste che portava al cinema a vedere i cartoni tanto è vero che una squillo non la uccide proprio per questo motivo perché lei li mostra la foto del bambino e lui dice letteralmente sono andato per ucciderla invece lui è lei che ha ucciso me però per tornare ai treni quindi l'allarme sociale ovviamente nel momento che sono tutti a rischio diventa 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 folli anche io mi ricordo quel periodo lì mi ricordo delle delle ragazze le donne che viaggiavano comunque raggruppate al centro di un vagone si facevano da sentinella una con l'altra se dovevano andare nella toilette ci mandavano a fare i servizi sui treni alla sera e incontravi solo colleghi solo giornalisti e qualche poliziotto e qualche esponente della Lega perché allora la Lega aveva deciso di fare le ronde di sicurezza e sui treni finivano normalmente con qualche parapiglia con qualche vucumpra che era lì insomma era tutto una cosa però era davvero un momento di terrore quando uccide Elisabetta Zoppetti che è l'infermiera di Milano che tu ricordavi e quando uccide una settimana dopo Mariangela Rubino ecco entrambe di 32 anni e il 32 era anche il numero che lui giocava sempre alla roulette ecco questo non so quanto sono cose non parliamo di coincidenze che è un termine ferroviario ecco ecco bravo bravo senti prima di salutarci mi stavo chiedendo due cose la prima è un interesse anche professionale perché io avverto nel cittadino comune una certa sfiducia nei confronti dell'apparato giustizia soprattutto laddove emergono questi vizi di mente questi famigerati vizi di mente che in qualche modo riducono da questo stretto punto di vista cioè trattamento sanzionatorio di bilancia tu che ti sei riletto tutto lo trovi corretto? sono sentenze giuste quelle a suo carico? allora secondo me è veramente è veramente difficile e me lo insegni il confine tra quello che è normale è ovvio che uno così fosse turbato perlomeno però è anche vero che lui pianificava questi omicidi in una maniera che la lucidità non cioè quello che dicono gli psicologi dicono nonostante i disturbi borderline le turbe eccetera però lui sapeva esattamente per cui ricordiamo ai telespettatori fu sempre dichiarato capace di intendere gli è andato 13 gli è andato 13 a gastro la cosa se posso permettermi nel finale la cosa che più sconvolge di tutta questa faccenda al di là della feroce è il fatto che davvero il confine tra noi cosiddetti normali e quello che è un mostro un omicida come lui è davvero labile lui e questa è una particolarità fino a 46 anni lui era un lado un balordo un topo d'appartamento una leggera ma non aveva mai fatto male a nessuno a 46 anni di colpo in seguito al torto inizia a uccidere ecco inizia a uccidere e veniva anche da una famiglia suo padre era un ragioniere dell'Inps insomma lui cresce ecco questa è l'ultima cosa che voglio dire lui cresce in questa compagnia in piazza Martinez che è un quartiere popoloso popolare popoloso di Genova e con lui era assieme che gli abitavano davanti c'era Beppe Grillo la vede perché rido perché questa cosa Beppe Grillo in uno spettacolo che io ho visto qua a Milano la dice l'avevo scoperto da lui sì Beppe Grillo racconta poi Beppe Grillo non so quanto racconta che la madre di Grillo quando usciva gli diceva torna condonato che sono più tranquillo che è un bravo ragazzino torna con lui lo racconta esattamente così e Grillo l'aveva soprannominato la Bellinetta che peraltro per un serial killer è veramente poco appropriato perché Bellinetta in Genovede significa uno tonto ma innocuo e sempre in questa compagnia c'era anche Vittorio Descalzi che fonderà New Torso insomma c'erano c'erano questi personaggi uno si chiede com'è che uno diventa una rock star l'altro diventa un comico poi un politico poi adesso un guru non ho capito bene e quell'altro un serial killer cioè è un neurone che va fuori orbita è un bivio che ecco questa è la cosa che trovo più sconvolgente di tutta la storia quello che si chiedeva l'altra sera Enrico il mio compagno mentre gli raccontavo del libro e del fatto che ti avrai incontrato diceva proprio pensa questa è una delle cose a cui tutti noi dobbiamo porre mente uno stesso humus in cui crescono ragazzini coetanei quindi con le medesime possibilità eppure le traiettorie giocano a pallone assieme mangiano cornetto algi assieme andavano alla stazione di Brignola assieme non avevano ancora girato amici miei ma loro andavano a tirare gli schiaffi a quelli affacciati ai treni che partivano ecco questo faceva non è vero che è l'ultima cosa che ci dice perché prima di salutarci mi sveli questo questo donato bilancio era dentro di te da tanti anni muore tu senti il bisogno di scrivere la sua storia e ora che l'hai scritta come ti senti? ripeto volevo esorcizzare e liberarmi di lui però i fatti dimostrano insomma che sono ancora qui a parlarne con te però mi sento meglio devo dire devo dire la verità mi sento meglio era una cosa che che dovevo fare insomma che qualcosa mi imponeva di fare pensi di aver dato un po' di giustizia anche a lui? beh a lui io ho cercato di scavare in questa storia il rispetto dei suoi confronti e anche soprattutto nei confronti delle vittime che che naturalmente sono alle quali va il mio primo pensiero al di là che si trattasse di prostitute di donne da sole sul treno di balordi di biscazzieri eccetera ma ha sparso tanto lutto ecco quest'uomo qui quanto ne fosse consapevole cioè davvero lui dice che in quel momento quando subisce questo torto che è un tradimento da parte degli amici succede nel suo cervello un patatrac ecco questo patatrac innesca questa spirale di violenza che finisce soltanto con l'arresto il 6 maggio del 98 io vi consiglio questa lettura in omaggio alle vittime in omaggio a Donato bilancia perché comunque da qui per la prima volta leggendo della sua infanzia e leggendo di certe caratteristiche personalissime di quest'uomo vi darete anche delle risposte detto questo buona serata a tutti da Alessio Sorgato buona serata grazie grazie a tutti quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi ha risolto giallo grazie a tutti